Il Via Libera in Consiglio Comunale sulla realizzazione della nuova sede della Questura di Cremona e della Polizia Stradale nell'immobile di Via Sesto e della nuova sede del Polo Cremonese del Politecnico e del Convitto degli Studenti Universitari presso il Compendio De Maniale ex Caserma Manfredini lascia aperti molti dubbi, anche tra chi in Consiglio ha votato a favore. Una delle questioni che rimane aperta è la possibilità per Cremona di realizzare una cittadella della sicurezza, possibilità che sfuma per sempre. Tra le forze dell'ordine i carabinieri che hanno la sede forse più malandata in città dovranno restare in Viale Trento Trieste, mentre lo spostamento della Questura insieme alla Polizia Stradale non convince anche per questioni viabilistiche oltre che per il presidio del centro. Parliamo della cittadella della sicurezza che verrà messa dove attualmente c'è il Politecnico perché il Politecnico si sposterà nell'ex caserma Manfredini. Sicuramente il progetto ambizioso era quello fatto dalla Giunta Peri dove la cittadella della sicurezza doveva essere completata anche con l'arrivo dei carabinieri, cosa che non succederà. Spostare Questura e Polizia Stradale può essere un vantaggio per la Polizia Stradale in quanto si trova immediatamente a ridosso della tangenziale pronta per le sue uscite ma sicuramente uno svantaggio notevole per i cittadini per quanto riguarda la Questura e i suoi uffici. Innanzitutto perché direi che è all'estrema periferia della città e in più perché le persone che non hanno mezzi di trasporto idonei per arrivare in quella zona avrebbero notevole difficoltà in quanto non ci sono mezzi serviti e dedicati per la Questura a meno che l'amministrazione provveda in tal senso. È chiaro che in Consiglio Comunale nonostante il progetto sia incompleto abbiamo votato sì come Fratelli d'Italia anche perché non si può chiudere gli spazi alla città della cultura che sta nascendo in via Bissolati con la sistemazione dell'ex caserma Manfredini dove appunto si sposterà al Politecnico. Sicuramente si poteva fare meglio le cose.